Si è discusso dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nel corso del convegno dal titolo Tuteliamo i minori, organizzato dal CEF Pass, un evento che ha registrato la partecipazione di tanti esperti che hanno relazionato sugli interventi e sui percorsi di tutela nei confronti dei minori. Ci tengo a sottolineare che esperienze come queste, eventi come questi, come dire, concretizzano un po' la necessità di riparlare di diritti dell'infanzia che sono molto enunciati e a volte poco concretizzati e quindi tutti questi eventi che sottolineano l'attenzione che bisogna avere per il benessere quindi contro il maltrattamento in tutte le sue forme è fondamentale perché garantiamo e, come dire, discutiamo, ci confrontiamo sulle condizioni che possono garantire delle situazioni di crescita armonica questo significa che lavorando sulla prevenzione, sugli interventi possiamo lavorare perché i bambini e le bambine poi non abbiano nel loro percorso esistenziale evolutivo delle conseguenze a livello psicologico molto gravi che possiamo individuare nei traumi del maltrattamento in tutte le sue forme non penso solo alle forme più gravi ma penso alla trascuratezza, al maltrattamento psicologico ai problemi che ci sono nelle separazioni conflittuali che vedono questi bambini che noi chiamiamo invisibili davanti un po' invece ai diritti degli adulti ovviamente tutto questo dovrebbe garantire una società che è più attenta ai diritti dei bambini. A fare da cornice agli interventi dei relatori, la proiezione del video tratto dallo spettacolo Vorrei essermè della regista nissena Stefania Zigarella successivamente spazio alla lettura di varie poesie tratte dalla raccolta Era Farsi della neuropsichiatra infantile Margherita Rimi Il lavoro nasce da un protocollo d'intesa che l'Istituto Penale per i minorelli di Caltanissetta ha sottoscritto insieme al liceo classico linguistico Ruggero VII l'anno 2013 Questo protocollo d'intesa porta alla realizzazione di due laboratori di teatro paralleli per ragioni fisiologiche poi chiaramente si sono incontrati per la realizzazione dello spettacolo che dal titolo Vorrei essermè Lo spettacolo parla sostanzialmente di quello che sono stata in grado di cogliere da parte delle esigenze dei ragazzi attraverso il laboratorio I ragazzi hanno manifestato una grandissima voglia di esprimere i loro pensieri e le loro sensazioni e ci siamo fatti una domanda a loro, si sono fatti questa domanda perché alla fine lo spettacolo è ricco di domande ovvero se sia possibile essere se stessi In realtà lo spettacolo non ha un lieto fine, non c'è un vi sono tutti felici e contenti in realtà effettivamente essere se stessi hanno capito loro che non è sempre possibile perché come dicono è sostanzialmente esporsi come un bersaglio sempre alle critiche di chiunque